Hai fatto registrare un buonissimo avvio di campionato, poi hai accusato, se vogliamo una battuta a vuoto, ma ci sta, è fisiologico, col Brescia. Non hai giocato con il Palermo, ti sei riscattato alla grande in queste ultime due partite. Già erano piovute un po' di critiche nei tuoi riguardi, chi la dura la vince, perché tu sei così. Anche a Teramo, ricordo, nell'anno della promozione poi cancellata dalle ormai note vicende della giustizia sportiva, all'inizio sei stato, fosti molto criticato anche dalla stampa e non solo, poi però ti sei preso il tuo spazio da protagonista. Sì, va bene, le critiche sono giuste perché comunque venivo da una prestazione non bella a Brescia. Sono contento perché comunque il mister mi ha dato la fiducia facendomi giocare e lo apprezzo molto perché comunque è stato un bel gesto da parte sua. Ma tu non leggi i giornali, non ascolti quello che si dice in televisione? No, sinceramente cerco di leggere pochissimo, sì. Anche perché comunque queste cose non fanno bene a un calciatore, mentalmente possono condizionare e quindi non ci fa bene. Anche il fatto della classifica mi interessa poco. Adesso si fa dura per Bovo e Coda, dopo le ultime due prestazioni. Comunque Bovo e Coda sono due giocatori che hanno fatto sempre la Serie A, quindi sono importantissimi. Io la cosa che apprezzo il più di questo mister è che comunque chi si allena meglio durante la settimana gioca. Ed è giusto così, nessuno deve sentirsi già negli undici titolari, quindi chi si allenerà meglio questa settimana è giusto che giocherà. Come è stato finora, quindi nessuno a dare in piangersi nulla quando è in panchina perché sa che il compagno allenandosi molto meglio farà sicuramente meglio in campo. C'è meritocrazia? Hai avuto tanti maestri, abbiamo parlato qualche settimana fa, Vivarini sicuramente è l'allenatore che ti ha forgiato di più, ma hai avuto anche Grassadonia per sei mesi a Pagani, se non vado errato. Sì, l'ho avuto per i primi sei mesi della mia Lega Pro, mi ha insegnato molto perché non avevo mai giocato in una difesa a tre, è stato il primo ad inserirmi in una difesa a tre. Mi ha fatto comunque giocare tutte le partite, è un mister molto bravo che secondo me meritava già da qualche anno la Serie B. Sono contento che sta allenando una squadra come la Provercelli ma spero che gli auguri le migliori fortuna. Novellino? Novellino è un gran maestro, è un grande esperto della categoria, comunque fa tenere la squadra per 90 minuti sempre concentrata e lavora molto sulle ripartenze. Lui mi ha forgiato molto nel carattere perché è uno di carattere molto e lo ringrazio. Anche se il temperamento è nel tuo DNA, se vogliamo ha affinato ancora di più questa tua virtù. Sì, 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 il mister comunque ci dava la carica anche in allenamento, era molto uno che comunque ci teneva concentrati, specialmente in fase difensiva. Quindi se ora sono così sono salito un pochino di livello anche grazie a lui. Invece Zeman che non parla vi dà la carica con lo sguardo? Questa leggenda che il mister non parla è detta da tutti ma comunque noi che ci siamo dentro non è assolutamente vero perché lui ci dà molti consigli e comunque ci aiuta molto. Lui ha delle sue idee e ce le dice il più possibile per farcele rimanere in testa. Poi quando comunque in allenamento si sbaglia lui ci ferma il gioco e ci modifica le sue cose che vuole. Diciamo che è molto carismatico. Sì, 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 anche lui anche se non si vede comunque ci ha molti consigli e ci ha detto molte regole. Tra l'altro Marco Perrotta, lo vorrei ricordare, è reduce della prima Zemanlandia. Sì, vabbè, quel campionato me lo sento tra virgolette non mio ma va bene. E' rigiovane, poi ti sei infortunato mi ricordo nel corso della preparazione. Sì, mi sono rotto il perno della caviglia, sono stato fermo due metri e mezzo. Però sì dai, il destino ha voluto che... sono tornato qui a Cerradino del mister quindi sono molto contento e spero di godermi il più possibile questa mia annata a pescare. Tu come l'hai ritrovato il Boemo? Io sinceramente l'ho trovato ancora più carico di prima, con la voglia ancora di far meglio e sicuramente non è invecchiato. Sempre sul pezzo? Sì, 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 sempre, sempre sul pezzo. Marco Perrotta è un abruzzese d'adozione, sono quasi nove anni che sei qui, vieni dal Molise, dal vicino Molise, però sei pescarese a tutti gli effetti a questo punto. Sì, sì, vabbè, ho comprato anche casa quindi ora vivo qua a tutti gli effetti. No, è una regione che mi ha dato tanto e vorrei continuarci a vivere per tutta la mia vita perché comunque mi trovo benissimo. Ormai comunque da dieci anni che sono qua ho tutti i miei amici e mi trovo bene. Devo ringraziare per sempre l'Abruzzo, non solo Pescara ma anche Teramo perché mi sono trovato benissimo e ho deciso di restare a vivere qui. Sei cresciuto? Ho letto un'intervista recente col mito di Rocky Balboa che incarna un po' il tuo carattere, la tua spiccata personalità e il tuo temperamento. Sì, sì, è comunque un film che mi piace molto, infatti dormo col poster suo in camera. Addirittura, ti carichi prima delle partite? Sì, sì, sì. Prima degli allenamenti più che altro? Mi carica molto. No, comunque il film è un esempio di vita, impara, il suo significato è quello di non mollare mai e quindi vedo che mi rispecchia molto. Dal punto di vista invece tecnico è chiaro che vorresti, ho letto anche, assomigliare ad Alessandro Nesta, qui però devi fare molto di più sul piano tecnico. Tutti i miei compagni mi dicono che invece che Nesta assomiglio a Chiellini, ma cerco sempre di migliorare, dai. Comunque Nesta è uno dei difensori più forti al mondo, è stato, quindi c'è solo da imparare da lui. A me è un esempio che mi è piaciuto molto, più che altro perché andava sempre integra e scivolata e a me piaceva molto. A me è piaciuto molto.